Ci sarà tutta la sinistra anti-Renzi da MDP di Bersani e Speranza a campo progressista di Pisapia in piazza il 2 dicembre nella manifestazione sulle pensioni convocate dalla CGL dopo la rottura del tavolo di trattativa con il governo. Governo che in un emendamento alla manovra prevede lo stop dell'aumento dell'età pensionabile per 14.600 lavoratori. Aguato ieri sera a Ostia pochi giorni dal voto un uomo col volto coperto da un casco ha esploso alcuni colpi di pistola in una pizzeria ferendo il padre cinquantenne della proprietaria e il pizzaiolo 41 anni feriti sono stati soccorsi portati in ospedale non sono in pericolo di vita. E' stato indagato per riciclaggio Luigi Genovese 21 anni il più votato alle ultime regionali siciliane eletto con Forza Italia il giovane figlio dell'ex deputato del partito democratico Frank Antonio Genovese condannato a 11 anni per corruzione. Ai due e ai loro familiari sono stati sequestrati i beni per circa 100 milioni di euro compresi 16 milioni di fondi esteri. Potrebbe tornare la cosa coalizione in Germania. L'incontro tra il presidente della Repubblica Steinmeier e il leader dell'SPD Schulz ha portato all'apertura dei socialdemocratici con gli altri partiti per la creazione di una coalizione di governo con la CDU di Angela Merkel. 7.31 in questo momento buongiorno benvenuti al telegiornale telegiornale che abbiamo parlando un po' di manovre un po' anche di manovre scusate il gioco di parole politiche perché come avete sentito appena adesso nei titoli si prepara la manifestazione del prossimo 2 di dicembre. La manifestazione che la leader della CGL Susanna Camusso insiste nel dire che è solo sindacale che riguarda le pensioni ma che inevitabilmente in realtà invece si sta caricando anche di un significato politico perché l'adesione in massa di tutti i movimenti e i partiti a sinistra del PD e che con il PD non hanno trovato un accordo evidentemente ne muta. Diciamo così le caratteristiche. Nel frattempo però il governo sulle pensioni va avanti e presenta l'emendamento che dovrebbe alleviare diciamo così il percorso che porta alla fine dell'età lavorativa per almeno 14.000 persone. mentre dal prossimo primo di dicembre entra in vigore il cosiddetto reddito di inclusione per il quale si potranno fare le domande. Il centro-sinistra diviso si prepara alla vicina battaglia elettorale oggi a Firenze comincia l'Aleopoldo di Matteo Renzi con i dossier e liste elettorali e programma già aperti ma alla voce coalizione resta tutto da vedere. La spaccatura con i fuoriusciti di MDP sarà rappresentata plasticamente nella manifestazione contro l'aumento dell'età pensionabile indetta dalla CGL per il 2 dicembre. Con Susanna Camusso in piazza ci sarà tutta la sinistra antirenziana, i bersagnani, sinistra italiana, possibile di Civati e anche un pezzo di campo progressista di Giuliano Pisapia. Adesione a titolo personale dice Bruno Tabacci, anima centrista del movimento. Ma il filo del dialogo con il PD per accortarsi nei collegi è ancora da tessere. Ieri l'incontro del mediatore DEM Piero Fassino con la delegazione inviata da Pisapia che ha chiesto tra l'altro di calendarizzare Ius Soli e Biotestamento oltre a misure di equità sociale nella legge di bilancio. Non credo che lo sciopero il 2 dicembre della CGL sia politico, sia tenuto lontano dalle polemiche Matteo Renzi, ma dispiace affondato la divisione del sindacato di fronte alle proposte del governo che ha già tradotto in emendamenti alla manovra l'estensione della platea dei lavori gravosi i cui addetti non subiranno nella 2019 l'inalzamento a 67 anni dell'età pensionabile. Si parla di 14.600 persone, un pacchetto di misure che a regime vale 300 milioni di euro. E invece dovrebbe interessare almeno 500 mila famiglie il reddito di inclusione di cui vi parlavo prima, una misura pensata dal governo per contrastare per l'appunto la povertà. Lo hanno chiamato REI, il reddito di inclusione, ed è il nuovo strumento a disposizione delle famiglie che si trovano maggiormente in difficoltà. Entrerà a regime a partire dal prossimo gennaio. Riguarderà, per cominciare, 500 mila nuclei familiari, circa 1.800.000 persone, che potranno così aggiungere al loro reddito una cifra mensile che arriverà al massimo a 485 euro. Bisognerà però stare dentro i parametri. Avranno diritto al sostegno quei nuclei familiari che hanno un reddito ISEE che non va oltre i 6.000 euro all'anno e un patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione che non valga più di 20.000. Il REI sarà compatibile con le attività lavorative, ma non con altri ammortizzatori sociali come l'assegno di disoccupazione. Chi percepirà il sostegno sarà affiancato con un progetto personalizzato che lo aiuti ad uscire dallo stato di bisogno. Anche perché il REI verrà erogato per 12 mesi consecutivi e fino ad un massimo di un anno e mezzo. Dopo sei mesi dalla cessazione si potrà fare una nuova domanda per rinnovare il sostegno per un altro anno. Potranno presentare le domande a partire dal prossimo primo dicembre i cittadini italiani ed extra comunitari che abbiano un permesso di lungo soggiorno e risiedano nel nostro paese da almeno due anni. Le prime ad essere coinvolte saranno le famiglie che hanno almeno un minore, una donna incinta, disabili o infine disoccupati che abbiano più di 55 anni. Il REI che può arrivare ad un massimo di 187 euro a test e 485 per famiglia di 5 più persone verrà erogato con una carta prepagata. La metà della cifra potrà essere prelevata in contanti, mentre la rimanente si potrà spendere in supermercati, alla posta e in farmacia. Torniamo a parlare di politica politicata perché dicevamo, quello che si sta per iniziare, di fatto è iniziato un weekend importante, la Leopolda a partire dalle 8 di questa sera, mentre invece nel pomeriggio a Milano i Day Italia, la voce del paese, l'iniziativa invece anche quella di tre giorni pensata da Forza Italia. Tutto questo in vista appunto delle elezioni che sono ormai prossime, la data non è fissata, ma intanto si disegnano i collegi elettorali. Sono stati licenziati dal Consiglio dei Ministri, ora la parola passa alle Camere, c'è tempo 15 giorni, ma è una questione delicatissima che secondo alcune indiscrezioni avrebbe fatto, avrebbe creato diciamo così frizioni anche all'interno del governo. Con la mappa dei collegi arriva l'ultima tessera del puzzle della legge elettorale. Il governo ieri ha varato il decreto che disegna la nuova geografia secondo la distribuzione della popolazione in base al censimento 2011. Più collegi al nord, meno al sud. Le prossime elezioni politiche, Lombardia, Veneto ed Emilia, eleggeranno due deputati in più rispetto al 2013, mentre Basilicata, Umbria e Sicilia perdono qualche rappresentante. Un indubbio vantaggio per chi sulla carta vede ad esempio il centrodestra e lì il suo bacino elettorale. Insomma un dato tutt'altro che neutro. Si spiega insomma perché questo passaggio tecnico è sotto la lente della politica. La nuova mappa dei collegi è infatti una ricaduta importante sul voto, favorendo a seconda dei confini dei collegi, 232 alla Camera e 109 al Senato quelli uninominali, questa o quella forza politica. I partiti lo sanno e se 5 Stelle già attaccano accusando il governo di favorire i candidati PD, Forza Italia, scettica dopo aver partecipato alla stesura del Rosatellum, attende di vedere le carte. Tensioni secondo i retroscena anche all'interno dell'esecutivo con la Boschi che avrebbe chiesto modifiche ai confini dei collegioni nominali disegnati con il righello dal comitato presieduto dal presidente Istat e il ministro Minniti che ha preferito delegare la questione al Parlamento. Le Camere hanno infatti 15 giorni di tempo per dare un parere consuntivo, poi toccherà al governo il vario definitivo entro la prima metà di dicembre, un gong che apre di fatto la corsa elettorale. Veniamo alla cronaca, cronaca che però in qualche modo si intreccia con la politica. Innanzitutto l'agguato ieri a Ostia in una pizzeria poco dopo le 22, un uomo con il volto celato dal casco è entrato per l'appunto in questa pizzeria e ha ferito il padre della proprietaria, un uomo di 50 anni, e il pizzaiolo sul posto, ovviamente subito la polizia che sta indagando, scusate i feriti invece sono stati soccorsi e portati all'ospedale e non sono fortunatamente in pericolo di vita. L'agguato però appunto è avvenuto nel municipio del litorale romano che come sapete solo domenica scorsa era andato al voto. Il locale qualche mese fa aveva cambiato gestione e per gli inquirenti si tratta senza ombra di dubbio di un avvertimento di stampo mafioso. Invece non si ha idea di che cosa e chi abbia causato la morte di un giovane uomo di 34 anni morto a coltelato in una rissa a Barcellona. La tragedia si è consumata nel quartiere popolare di Raval e vi dicevo ancora tutta da chiarire l'inchiesta e i dettagli e i particolari. E ancora invece per quello che riguarda la cronaca ma anche la politica si indaga dopo il sequestro dei beni di casa genovese e la messa sotto accusa del rampollo di famiglia. Il giovane Luigi, appena 21 anni, eletto all'Assemblea regionale siciliana nelle file di Forza Italia. I magistrati scrivono che in questo procedimento è implicata una intera dinastia, quella dei genovese, che avrebbero messo in piedi un gigantesco giro di riciclaggio sottrendo anche un mucchio di denaro al fisco. Un sistema che sarebbe stato pilotato dal deputato Franco Antonio Genovese già condannato per corruzione, che ora rischia di travolgere la carriera politica del figlio Luigi, neoeletto a soli 21 anni, con 18.000 preferenze alle ultime regionali siciliani nelle liste di Forza Italia. Record man di preferenza era stato lo stesso Franco Antonio alle primarie del PD nel 2012, poi eletto deputato l'anno dopo. E' il 2015, quando è stato arrestato per corruzione con i voti favorevoli del suo stesso partito, il PD appunto, poi condannato a 11 anni di carcere nel processo sui corsi di formazione professionale, oggi deputato di Forza Italia. Ora, insieme, padre e figlio, ma anche la madre e un nipote, sono accusati di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, riciclaggio ed autoriciclaggio. Illeciti che avrebbero permesso l'accumulo di un vero e proprio tesoro. La Guardia di Finanza ha sequestrato preventivamente beni per 100 milioni di euro, ville, residenze, azioni, conti correnti, una sessantina di appartamenti. Sono stati scoperti anche fondi esteri per 16 milioni di euro, nascosti in un conto svizzero ed è proprio da lì che è partita l'inchiesta. I magistrati l'hanno definita la madre di tutti gli illeciti. Parte di quei fondi sarebbero poi transitati in una banca di Monte Carlo e infine riportati in Italia a piedi dai cosiddetti spalloni. Gli inquirenti scrivono che si tratta di una sorta di apriti sesamo che ricorda la favola di Alibaba e i 40 ladroni. Per evadere le tasse e mettere quei soldi a riparo, Franco Antonio si sarebbe spogliato di tutti i beni passandoli al figlio che secondo i magistrati avrebbe avuto un ruolo determinante e consapevole. Sono certo della linearità della mia condotta, detto Luigi Genovese, è il quarto indagato nella nuova assemblea regionale siciliana e i guai non sembrano finire. La procura di Siracusa ha infatti aperto una nuova indagine per una presunta compravendita di voti alle elezioni del 5 novembre scorso. Ancora la cronaca per darvi notizia della inchiesta sulla valanga che travolse l'hotel Rigopiano con le sue 29 vittime. Sono 23 a questo punto le persone indagate, fra di loro l'ex prefetto di Pescara, due dirigenti della prefettura, funzionari della regione Abruzzo, il sindaco di Farindola e i suoi due predecessori. Secondo i magistrati ci furono infatti una serie di inadempienze, di ritardi e di atti non compiuti. Intanto l'albergo durante l'inverno non poteva neppure rimanere aperto perché mancavano i necessari interventi contro le slavine. Mancava anche la mappatura, la cosiddetta carta delle valanghe che attestava il pericolo. Così come fu attivata in ritardo la sala operativa, fra l'altro a quel punto ormai l'unica strada che portava all'albergo era completamente inagibile. Veniamo invece adesso a parlare di politica estera. Sapete che la Germania è alle prese con la difficilissima composizione di una maggioranza di governo. Saltata la cosiddetta coalizione giamaica, non c'erano molte altre alternative. E l'SPD di Martin Schulz, che aveva sempre detto no, 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 noi non ci stiamo a rifare una nuova grossa coalizione, pare che invece forse ci stia. Il pressing del presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier sul suo partito all'SPD comincia a produrre risultati. I socialdemocratici infatti si dichiarano disponibili a parlare con gli altri partiti e così facendo aprono alla possibilità di far rinascere la grande coalizione con i centristi di Angela Merkel per salvare la legislatura e scongiurare un ritorno alle urne. È quel che si è preso dopo il vertice di questa notte. In precedenza Steinmeier e Martin Schulz avevano parlato per più di un'ora. Il capo dello Stato, che già lunedì aveva evocato l'essenzo di responsabilità di tutte le forze politiche, sembra abbia chiesto al leader socialdemocratico un maggior impegno per far uscire la Germania da una situazione del tutto inedita. Il problema è che dopo l'esperienza della grande coalizione le urne hanno consegnato all'Espedale il peggior risultato del dopoguerra e per questo Schulz ha sempre ribadito di voler rimanere all'opposizione. Ma la notte tra domenica e lunedì ha cambiato tutto perché è naufragata la possibile alleanza giamaica tra conservatori, verdi e liberali che si sono tirati indietro a sorpresa. E il pallino è tornato alla Presidente della Repubblica che come noto vuole evitare a tutti i costi le elezioni anticipate. Ed ora molti esponenti socialdemocratici premono affinché il partito torni a considerare la grande coalizione o perlomeno la possibilità di appoggiare dall'esterno un governo di minoranza. Ipotesi questa che tuttavia viene scartata da Angela Merkel che preferisce tornare alle urne piuttosto che chiedere voti in Parlamento su ogni singolo provvedimento per la cancelliera sarebbe una dimostrazione di debolezza che la Germania non può permettersi. Ma intanto non è mai stata così sola a traballare la sua stessa leadership uscita a malconcia dalle elezioni del 24 settembre. Stessa situazione per Martin Schulz il cui destino si deciderà tra il 7 e il 9 dicembre durante il congresso federale della SPD. Non è solo un weekend importante dal punto di vista politico è il giorno del ringraziamento è il weekend del Black Friday negli Stati Uniti ma ormai di fatto anche in Europa dove è stata importata questa tradizione. Questo significa acquisti significa compere quelle in vista del Natale ma non solo. Per confe esercenti il giro d'affare stimato nel nostro paese è di circa un miliardo e mezzo di euro metà della quale in transazioni online e come sapete c'è una protesta forte la sfida lanciata dai dipendenti dello stabilimento Amazon nella multinazionale americana degli acquisti online che ha a Piacenza il proprio hub dove lavorano circa 4.000 persone lo sciopero per chiedere migliore trattamento economico e condizioni più umane è stato indetto appunto proprio per oggi e si teme possa provocare rallentamenti nelle consegne. Adesso invece ci occupiamo di sport perché l'Europa League sorride al calcio italiano il Milan e l'Atalanta hanno centrato la qualificazione ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo e quindi fanno compagnia alla Lazio i rossoneri travolgono l'Austria a Vienna al 5-1 brillano gli attaccanti di Montella Andre Silva e Cutrone che realizzano una doppietta mentre l'altro gol è di Rodriguez stesso risultato anche per l'Atalanta di Gasperini prima squadra italiana a vincere nello stadio dell'Everton Cristante e Cornelius segnano due reti ciascuno in rete anche Gözens partita in influente invece per la Lazio già qualificata 1-1 con il Vitesse ma comunque si registra l'infortunio muscolare di Nani e poi questo weekend c'è anche la Formula 1 Il clima è da ultimo giorno di scuola Abu Dhabi chiude la stagione della Formula 1 vissuta sul lungo duello tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel il britannico della Mercedes ha conquistato il quarto titolo mondiale con due gare di anticipo raggiungendo il ferrarista tra i campioni con il maggior numero di caschi ridati a poche ore dalle prime prove libere di questa mattina i due protagonisti del 2017 hanno rivissuto il loro testa a testa nel quale Marchionne e Dixit il cavallino avrebbe potuto fare di più senza le cavolate del team e dei piloti abbiamo compiuto dei grandi progressi ha sottolineato il tedesco Vettel migliorando sia il telaio sia il motore eravamo vicini alla Mercedes ma non quanto bastava nel momento decisivo c'è delusione per il titolo perso ma abbiamo imparato tanto a fare la differenza è stata la nostra maggiore regolarità la lucida analisi di Hamilton il neocampione del mondo si è attribuito il merito di aver commesso meno errori del rivale ammettendo comunque di non aver avuto grossi guasti alla sua monoposto e di aver faticato specie nella parte iniziale del campionato contro una Ferrari definita fantastica dallo stesso Hamilton il pensiero però corre già al 2018 per entrambi l'obiettivo è di uguagliare i cinque titoli di un fuoriclasse come Manuel Fangio a meno due dal primatista Michael Schumacher dovremo alzare l'asticella nel confronto con la Ferrari altrimenti l'esito sarà diverso l'avviso di Hamilton subito raccolto da Vettel che ci ha scherzato su se confermeremo i miglioramenti avuti nell'ultimo anno vincere il prossimo mondiale sarà una passeggiata nel parco la parola passa alla pista dopo il Gran Premio di domenica i test di fine stagione sulle gomme previsti il 28 e il 29 novembre sempre ad Abu Dhabi 7.49 in questo momento io mi fermo do la linea Paolo Sottocorona che a sua volta la darà al dibattito di Omnibus ci vediamo come sempre se volete partire dalle 7 di domani mattina buona giornata grazie a tutti